questo piccolo, questa piccola preview del video perché veramente il game al posto che prima di quel video che non registravo oggi invece oggi faccio questo gameplay che veramente oggi l'ho completato finalmente non potete perdervi neanche un pezzo di quel gameplay a parte che dura poco, un minuto e basta però ne vale la pena guardarlo perché veramente c'è è stato un livello complicatissimo vabbè vi lascio al video, ciao 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 ciao